Devi diventare la chiave spezzata, diventare una sola cosa con essa, per scoprire dov'è nascosta la verità. Si tratta di una parte del canone di Torino. I seguaci di Orus. Purtroppo manca il frammento più importante. Dovresti andare a Torino. La chiave ricomposta potrebbe svelare inopportune sorprese. Loro possono arrivare ovunque. Niente e nessuno può fermarli. Loro, loro! Chi sono loro? Mi chiamo Arthur. Arthur Adams. Sono un ricercatore inglese. Sto raccogliendo informazioni su un antico manoscritto. Sto raccogliendo informazioni su un antico manoscritto. Loro, loro! Loro, loro! Loro, loro!